Farmaci a domicilio per 100.000 pensionati. E quanto prevede l'accordo stipulato dalla federazione pensionati della CISL e la FAR Express, i cui dettagli sono stati forniti nel corso di un incontro con i vertici locali del sindacato, tra cui Giuseppe Gargiulo della FNP CISL Campania. Offriamo ai nostri servizi l'accesso a questa convenzione, l'iscrizione gratuita, che è iscritta alla FNP, i 35 euro non li paga, avrà tutto gratuito, pagherà quel minimo per il servizio di cui ha bisogno che veramente rispetto alla qualità del servizio che viene offerto, importante. Il progetto, che parte in via sperimentale nella nostra regione, si poggia su un numero verde e su una card che consentirà ai pensionati di accedere a diversi servizi, dal ritiro della ricetta del medico fino alla consegna a domicilio del farmaco. Tutto questo solo con la quota di iscrizione al sindacato. Pietro Cerrito, segretario confederale CISL. Poi da qui noi vogliamo allargarci, stiamo studiando proprio una modulistica anche dei prezzi per le cose che dicevo prima, per fare in modo che io possa, quando ne ho bisogno, in qualunque condizione, in qualunque momento, usare specialisti e prelievi per le visite prelievi che fanno persone anziane che hanno più urgenze di noi, tutte quelle forme di intervento che vengono tradizionalmente fatte negli ambulatori privati.